benvenuti benvenuti cari amici siamo vedi questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like iscrivetevi al canale e iscrivetevi anche il canale telegram a cui iniziamo subito la nostra analisi con la crypto total market cap in questo momento siamo a 2.08 trillions quindi rispetto a ieri ok non è successo nulla siamo sempre lì dopo un bel dump da parte bitcoin che va raggiunto addirittura i 42 mila dollari ora come vedete siamo sempre all'interno di questa trend line scendente proprio in questo momento ok tocchiamo il punto di tangenza proprio quella trend line dei minimi come vedete qua e cosa mi aspetto io personalmente mi aspetto una ripartenza ok già da un po che lo dico potenzialmente potrebbe essere una ripartenza molto ma molto impetuoso ok che potrebbe verificarsi in pochi giorni ma riprendere i 2.55 e passare questo massimo ovviamente come sempre non sono né consigli finanziari né di trading io vado a dirvi ok quella che la mia visione in generale è per cui è questo che secondo me si prospetta sulla crypto total market cap e ci vuole assolutamente un bel recupero di bitcoin che per ora sembra ok essere ritornata la domanda sul bit andiamo a vederci la bitcoin dominance bitcoin dominance che in questo momento sta lateralizzando naturalmente qui siamo sulla one day vedete come attualmente siamo a 40.71 e sostanzialmente non riusciamo che a violare i 40 ora che cosa mi aspetto mi aspetto che bitcoin recuperi ok nei confronti alla dominance perché secondo me una lateralizzazione implica ok uno recupera da parte il bit che farebbe bene a tutto l'ecosistema crypto ok perché se il bit cresce come abbiamo visto in passato poi pian pianino i profitti bitcoin iniziano a riversarsi sull'altcoin perché la gente appunto trova noia su bitcoin vede che non riesce a fare grandi rendimenti al massimo 10 20 per cento e di conseguenza prova che andare sulle altcoin questo è un po ragionamento quindi vogliono di nuovo forza su bitcoin bitcoin che in questo momento sembra avere volumi addirittura avevamo preso i 42.000 e come vedete anche qui in un qualche giorno ok precedente fa circa il primo marzo vedete come si era fermato anche qui a 42.000 ora è un caso secondo me no ok sui 42.000 abbiamo una forte domanda rappresenta un fortissimo supporto e quindi questo veramente ok a valida le mie attesi cioè io sono convinto che i 42.000 di essere un supporto che non verrà violato e se non viene violato ok questa è un gran bel segnale ripartire da qua per pian pianino tornare su secondo me risulta molto ma molto interessante quello che vorrei proporvi ok come mia idea come mia visione vi ricordo sono nei consigli finanziari di trading potremmo assistere nel mese di maggio barra giugno vedremo un po che cosa succederà a una crescita di questo tipo che è mio a mio parere perché abbiamo avuto un forte scarico dai 41.000 in gennaio fino ai 28.000 ok che in qualche modo assomiglia molto a questo scarico se lo guardate ora che cosa potremmo assistere se si riproducesse il tutto potremmo assistere a una cosa di questo tipo ora andiamo a vederla però potremmo assistere a un bitcoin ok che passa i suoi massimi di 64.000 arriva praticamente fino a 69.000 70.000 e con un minimo a 61.000 questo è un po lo scenario che potrebbe tracciarsi vedremo un po che cosa succederà naturalmente non è detto che che avvenga ma questa è puramente una mia visione andiamo a vederci binance coin binance coin che sta facendo bene ok siamo in questo momento a 526 dollari come vedete ha perso la trenera ascendente chiaramente però attenzione perché se bitcoin riparte secondo me binance coin potrebbe riprodurre anche una cosa di questo tipo ok quindi passare senza problemi ok l'olta mai quindi che sta praticamente a 700 dollari e avviarsi secondo il mio punto di vista a 800 dollari quindi attenzione a binance coin per quanto riguarda cardano attenzione a cardano in questo momento siamo a 2.10 con un'aiga 2.47 mamma mia su una coin così a grossa cap veramente secondo me è un qualcosa di assurdo la crescita che ha avuto guardate qua quindi secondo me è un qualcosa veramente di assurdo e se andiamo a vedere questa crescita che ha avuto poi la realizzazione e crescita andate a riprodurre nella seconda fase proprio guardate qua andate a riprodurre nuovamente questa forma ok guardate qua che è identica o uguale quindi il ragionamento mio è alle volte se voi osservate i grafici può essere ok vi dico può essere che vada a riprodurre anche certe strutture la coin che ha fatto già in precedenza di conseguenza monitorate questa cosa che cosa è successo dopo però guardate dopo che cosa è successo quindi attenzione a chi è su cardano su chi vuole entrare su cardano questa è un po' la mia idea e la mia visione che potreste assistere anche a un forte scarico qua avevamo assistito da 1.54 a 0.88 io come vi dico secondo me quando il sangue scorre nelle strade ok si va a comprare quando c'è felicità ovunque ok mi fa più paura vedere anche ne so bitcoin tra qualche settimana a 70 mila e dover dire ok vado a aggiungere liquidità piuttosto che vedere bitcoin a 40 mila e dire ok giungo liquidità preferisco comprare a 40 mila piuttosto che a 70 tanto il progetto è sempre quello che questo è il mio ragionamento andiamo a vederci polkadot la polkadot in questo momento era ok in trendline ascendente lo vediamo chiaramente ha perso la trendline però attenzione perché sta recuperando bene ci sono volumi c'è action e quindi attenzione a polkadot perché se recupera la trendline quindi torna sui 44 secondo me pian pianino può andare a rompere l'oltre mai l'ha già fatto più volte qui dopo scaricato dopo qui quindi secondo me polkadot è una coin assolutamente da acquistare quando va a scaricare ok questa è un po' la mia idea andiamo a vederci chain link chain link sicuramente volumi ok diminuiti siamo anche qui a 40 dollari abbiamo un AIG a 52 vediamo un po' che cosa succede qua c'è tanto a recuperare per tornare in trendline ascendente però attenzione anche a chain link perché quando fai i suoi movimenti propulsivi rialzisti li fai in maniera ok molto veloce vi ribadisco che è il miglior oracolo in circolazione e quindi attenzione monitoratelo ok andiamo a vederci stella lumens per quanto riguarda stella lumens secondo me dal mio punto di vista ha la miglior struttura in circolazione sul reparto altcoin perché guardate qua il movimento 5 movimento 5 abbiamo minimi sempre più crescenti guardate qua quindi secondo me un'ottima cosa avere minimi crescenti e anche i massimi sono più crescenti anche in questo ultimo massimo che abbiamo fatto che siamo passati da 0.78 a praticamente 0.79.9 quindi a 0.80 io ho detto andremo a prendere probabilmente 0.80 e scaricheremo in zona 0.63 ok abbiamo scaricato in zona 0.62 quindi un po' i miei calcoli diciamo sono stati validati ok la mia attesa è stata validata è stata confermata ma è un caso ok io avevo fatto quel ragionamento qui praticamente avevo preso la trendline precedente l'ho riprodotta e ho riprodotto anche lo scarico ok ora che cosa mi aspetto dalla stella secondo me prossimo movimento rialzista se continuiamo con questo tipo andrà a passare ok le volte mai questa è un po' la mia idea ora che proprio al 31 maggio andiamo a passare le volte mai può essere ok però non è detto nel senso vedremo il 31 maggio ora ragazzi non è che vi posso dire anche la data già è difficile sapere se potrebbe raggiungere un valore figuratevi il giorno e mai anche l'ora però secondo me ci sono alte probabilità ok insomma alte c'è la probabilità ok che presto stella possa passare le volte mai questa è un po' la mia idea ora se continuo a fare i minimi crescenti e ci sono volumi su stella attenzione perché se stella passa le volte mai secondo me esplode questa è un po' la mia idea naturalmente come sempre sono nei consigli finanziari né di trading andiamo a darci xrp vi ricordo che stella xrp sono fortemente legate ora l'action che sta facendo xrp mi piace tantissimo guardate qua anche qua minimi crescenti sicuramente una crescita più lenta però ricordiamoci da dove arriva xrp xrp arriva da un 3x fatto in due settimane ok nel mese di aprile di conseguenza un forte scarico ci stava assolutamente però l'action sta continuando ora il mio prossimo target su xrp perché si ricorda i video precedenti di 2.25 secondo me è ok molto presto potrebbe andare a prenderlo c'è la probabilità c'è la possibilità però come vi ricordo c'è anche la possibilità che questa cosa non si realizzi andiamo a vederci soliana la soliana sta facendo oltamai su oltamai in questo momento 53 dollari come dico sempre soliana è ancora una dubai desertificata però sulla quale si sta costruendo tantissimo andate a vedervi l'ecosistema di soliana ho fatto anche un video con saveria un po' più su soliana quindi se qualcuno vuole capire la potenza di questa coin si vada a vedere il video secondo me una coin pazzesca per quello che sta costruendo la velocità 6.000 transazioni al secondo sono un qualcosa secondo me di assurdo ok non c'è niente non c'è alcun competitor che ha questa velocità e infatti stiamo vedendo come soliana continua la sua corsa sostanzialmente ora ogni tanto qualche scarico ma che fisiologico ok siamo passati da 49 a 37 ma guardate qua com'è riassorbito nella giornata ieri bitcoin dampava e ha raggiunto addirittura i 51 dollari poi ha fatto un retest a 43 però oggi già nella giornata di oggi siamo a 53.30 ora dove può arrivare soliana andate a vedere il video abbiamo parlato anche di previsioni di mercato che naturalmente noi facciamo sulla base dei nostri calcoli è sempre su una base di una visione che non sono consigli finanziari la probabilità che se avere questa cosa della mia price prediction su soliana mi auguro che avvenga perché ne ho un po' di dotazione in soliana però naturalmente potrebbe anche non avvenire io vi ricordo che quando voi mettete del denaro è importante soprattutto anche diversificare perché non sempre quello che succede deve succedere e poi la vivete anche più tranquilla con una maggiore diversificazione e ovviamente considerate i rischi e benefici andiamo a vederci RIF Finance RIF dal mio punto di vista mi piace perché se vi guardate l'impostazione della struttura secondo me è ottima ultimamente soprattutto anche qui abbiamo minimi crescenti naturalmente nella giornata di ieri RIF ha pagato il colpo perché è caro il bitcoin ma tutto l'ecosistema a parte come abbiamo visto soliana e qualche tra coin non ha pagato però attenzione perché anche su RIF si sta sviluppando tanto andate a vedere tra l'altro ragazzi vi segnalo che c'è un falso RIF quando vi dovete collegare al sito accedete tramite CoinGecko e cliccate là perché c'è un falso e qualcuno purtroppo è andato a connettere il suo metamask potete immaginare che cosa è successo ok quindi attenzione ai falsi non date mai le vostre password le vostre chiavi private non vi chiederanno mai queste cose ok ragazzi le 12 parole del metamask non datele mai a nessuno non ve le chiederanno mai solamente se perdete la password e tutto allora andate ad inserire su metamask le 12 parole ok non fatevi fregare per favore ok detto questo quello che voglio dirvi secondo me RIF tornerà all'interno di questa trendline ascendente secondo me se va a recuperare il 0.41 ok siamo nuovamente bullish e possiamo camminare all'interno di questa trendline ora RIF è tendente a non camminare all'interno della trendline come vedete tende ad avere degli espluats ma di conseguenza secondo me una rottura più in particolare dei 0.05 ma ancora più particolare di 0.06 potrebbe innescare un qualcosa su RIF di inimmaginabile questo è un po' l'amidio andiamo a vederci VChina VChina che al momento diciamo è tranquillo siamo passati dai 0.27 fino ai 0.14 con un dump del 50% ma che è normale guardate qui che crescita esponenziale che abbiamo avuto su VChina quindi è normale anche uno scarico ora che cosa potrebbe succedere su VChina? secondo me potrebbe succedere una cosa anche di questo tipo se Bitcoin riparte cioè riproduzione di questa cosa qui e probabilmente VChina va a rompere ok tranquillamente i 0.30 anche potenzialmente anche 0.35 che può avere vedremo un po' che cosa succede nei prossimi giorni però se VChina riprende forza e va a rirompere ci sono volumi può andare anche a rompere tranquillamente lui da mai infine andiamo a vedere Matic la Matic è praticamente una cosa pazzesca ora chi vuole entrare su Matic fate come volete io vi dico la verità non ho dotazione di Matic al momento non ne voglio acquistare perché nella criptosfera ok c'è sempre un treno non fatevi abbagliare da ciò che lucica questo voglio dirvi non fatevi abbagliare da ciò che lucica piuttosto prendete un caro vecchio ok ma di nuovo però che vecchio che è una 500 e cercato che di trasformarla in Ferrari perché lo stesso Matic era una 500 scassata guardate qua 2 centesimi a dicembre ora siamo a 2 dollari dovete voi capire ok dovete studiare il progetto dovete capire se c'è potenziale e quando avete queste coin così basse potete mettere poco che può diventare tanto ok potete avere una diversificazione sul portafoglio molto ampia questa è un po' una mia idea di conseguenza qua vediamo come era in treno ascendente ha rotto chiaramente guardate qua e secondo me ok dovrà prima o poi di testare quindi potenzialmente un'ottima area di buy potrebbe essere su una bella dip a me non piace comprare in parabolica vi dico la verità poi magari arriva a 4 dollari ma chi se ne frega dal mio punto di vista sono tanti altri treni per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di suggerire il bottone di like iscrivetevi al canale e ci vediamo presto iscrivetevi al canale